60 anni fa ho iniziato qui proprio in questa scuola, all'istituto, ho fatto scenografia, poi sono andato all'Accademia di Brera e di lì dovevo scegliere due cose, o fare teatro o fare cinema. Il cinema per me era qualcosa di meraviglioso, fantastico, dunque cosa ho fatto? Sono partito da Parma, sono andato a, credo, a Roma nel 65, nel 1965-66, facevo bozzettista, lavoravo, guadagnavo, non avevo tanti soldi, ricorcevo pochissime persone e di lì ho iniziato la mia carriera facendo uno spaghetti western. Pio Angeletti, produttore di film molto importanti, mi fa conoscere Mario Monicelli. Un giorno mi chiama, mi dice, guarda, vieni in ufficio, devo farti conoscere Mario Monicelli, stiamo facendo un film insieme e vorrei fartelo conoscere. Io rimasi veramente atterrito quasi, le gambe mi, devo dire, che mi facevano Giacomo Giacomo e arrivo in ufficio, arrivo in ufficio, entro nell'ufficio di, mi stavano aspettando e incontro finalmente Mario Monicelli. Monicelli senza pochissime parole, Mario sempre stato in pochissime parole, mi dà il copione, mi dà il suo numero di telefono e mi dice, Lorenzo, no, Baraldi, io ti chiamerò Baraldi. Va bene, io ti chiamo Monicelli. Leggilo, mi telefoni e poi parliamo, eccetera. Come si chiama il titolo del film? E vogliamo i colonnelli. Va bene. Di lì poi abbiamo fatto Caro Michele, Amici miei, abbiamo fatto Il borghese piccolo piccolo, e poi un altro Amici miei, il Marghese del Grillo, Mattia Pascal, i Picari. Poi l'ultimo film è stato Le rose del deserto, dopo tanti anni, perché a un certo momento ci siamo separati, io ho molto da fare, lavoravo molto, Mario evidentemente voleva uno scenografo, non partai, ma voleva uno scenografo da mattina a sera con lui, come era normale, come sempre io ho lavorato, e che siamo incontrati nel 2004 a fare questo film, Le rose del deserto, abbiamo fatto, è stato il suo ultimo film. Ho voluto tutta la squadra, la vecchia squadra, la mia squadra, fatta da sessantenni, 65 anni. Infatti mi disse, lui che aveva già 91 anni, ma sono tutti rimbambiti, Lorenzo, mi raccomando, non mi portate i rimbambiti, perché se no io squalifico. Guarda che non sono rimbambiti, l'attrezzista, i costruttori, i pittori, e hanno una gran voglia di lavorare con te.